ciao a tutti buon lunedì la polemica di oggi riguarderà le minchie mosce ossia quelle persone mosce che non hanno nulla a che vedere con la vita intima io definisco una minchia moscia una persona priva di entusiasmo che non ha mai voglia di fare niente non ha alcun obiettivo nella sua vita e spesso vuole trasmettere questo mosciume tra virgolette agli altri sono persone che stanno vivendo un periodo della vita non proprio positivo quindi in quel caso si può provare a coinvolgerle con un'uscita al ristorante al centro commerciale al lago insomma le iniziative ci sono oppure nei casi più gravi quando queste persone sono magari benestanti non hanno problemi di salute non hanno problemi familiari sono da evitare perché sono negative che non hanno alcun tipo di interesse vivono nella totale apatia voi avete conosciuto persone del genere fatemi sapere nei commenti io adesso vi saluto perché devo andare a montare il video dell'esplorazione che vedete domani sono stata al manicomio di vercelli e quindi ne vedrete delle belle alla prossima polemica